Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo video. Io sono Valeria Giampietro, ho 18 anni e faccio danza. Vivo a Savona, che è in Liguria, in provincia del Regino Genova più o meno. È una città piccola dove non c'è praticamente nulla, il mare, quello sì. Niente, in questo canale vi porterò dei contenuti, a mio parere, molto belli, tipo farò vedere un po' le mie cover, la mia skin care routine, la mia makeup routine e niente. Poi se avete anche voi delle idee che me le proponete, cercherò di farvele avere nel canale. e niente. Quante volte ho detto niente? Troppo. Cercherò di farvi ridere, divertire, insomma, queste cose qui. Sarà un canale molto disagiato, molto trash, come al solito. E niente, scusate anche se vedete un po' di disordini dietro. Lì c'è il mio carissimo ultimo, sì, perché mi piace molto ultimo come cantante. Poi mi piace Rama, sono andata al concerto a Sarzana a luglio. E niente, mi è piaciuto molto. Poi, vabbè, di musica ascolto un po'. Tutte anche le hate che fanno ora, tipo quella di Anna Lisa, bellissima, le hate estive, i pinguini, mi piace molto. Alfa, tra l'altro ci sono i biglietti per il concerto a Genova e io li ho presi. E ci andrò ad aprire. E poi, niente, farò anche il room tour o il room tour quando sarà più posto la mia camera, perché ora è un vero disastro. E niente. Scusate anche per il riflesso delle luci, non so cosa stia riflettendo. Ecco, ora mi vedo molto meglio. Niente, se avete domande o idee su qualche video da fare, fatemele pure. Io ovviamente qualche idea ce l'ho già su cosa fare. Poi andando più avanti, se volete farò anche il what's on my iPhone. Siccome ho appena cambiato telefono, prima avevo questo telefono qui, che è un Huawei P10 Plus. Avevo questo cover. C'è scritto never stop dreaming. E niente, però vedete che era tutto rotto. Cioè, vabbè, a parte che non era così, si accende ancora. Però non era così. Cioè, però era ancora tutto intero, nel senso che funzionava tutto. E ancora ora funzionava, solo che la fotocamera esterna era rotta e allora l'ho dovuta cambiare. Io ero preso un iPhone 14 Pro e ce l'ho anche abbastanza poco, perché ce l'ho tipo dal 14 dicembre, così. Quindi lo sto ancora un po' sistemando e sto ancora guardando un po' come funziona, ecco. E per il resto avevo già un iPad Pro. Che ora, se volete, ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua. E le Airpods. E niente, quindi sono molto contenta di averlo preso, perché mi serviva. Dico il telefono, anche l'iPad, però, soprattutto dal telefono mi serviva, perché con questo non riuscivo più appunto a farci foto, ma comunque ce l'ho già da un po', perché ce l'ho da... tipo dal gennaio 2017, quindi da 5 anni, sicuro, quasi 6. Quindi, sì, già da un po'. E niente, spero che il mio canale vi piaccia. Vi mando un bacione a tutti. E niente, al prossimo video. Ciao!